eccoci qua di nuovo siamo io e voi per fare un unboxing proveniente da non c'è sul pacco quindi ve lo dico io black river e letteralmente i black river trucks quindi che cosa ci sarà qua dentro forse black river trucks ma non solo black river trucks e questi sono quelli per i contest e io ovviamente non ve li faccio vedere ok ma credo che anche questi siano pericolosi ok dunque qui sono due bench bella vendita posso finire il suro per i contest o plastica ok tutto è una busta per me replacement part per i vostri black river trucks che si rompono se si rompono speriamo di no la mia fattura perché mi piace stare nella legalità guardate qui tanti librettini nuovi quindi se volete il vostro non dovete fare altro che ordinare tanti adesivi tutti uguali tanti adesivi tutti uguali c'è la siamo su con gli adesivi uguali va bene black river trucks base black vediamo se riesco a farci stare tutto qui base blu ovviamente 32 minuti base yellow base white non ci manca più niente base blu ancora e ancora base black e poi abbiamo anche delle idee all'invood io non mi ricordo di aver ordinato questa flat face devo guardarci comunque vabbè il mini logo che è un verde questa volta c'è la Mike Schneider brick ramp perché devo trovare l'altro pezzo ovviamente questo questo questi sono mini pocket pocket mini table vari replace parts hangar basi timo plant bushing tutte queste cose qua questa si chiama farò un questa è l'altro pezzo della Mike Schneider ramp la bike ramp non ho più pare di vedere ah si è un rail del bike ramp che mi mancava almeno così piaceva qui ci sono i due pole dopo una breve interruzione pubblicitaria che non era pubblicitaria abbiamo un altro bench un brick box un brick box ecco il lato tutto e dove lo sta a buttire l'abbiamo su e qui abbiamo una newster setup che non sto a tirare fuori con il suo rail giallo ovviamente piccola panoramica di tutto ciò che ho tirato fuori da qui e non vi ho fatto vedere i premi non ve li ho fatti vedere ehm ah giusto la palestron plaza che è qui e niente adesso vi saluto spero di riuscire a caricare queste cose sul sito prima che torni il computer rinnovato spero di riuscire a caricarle con il dinosauro se non ce la faccio abbiate un po' di pazienza e soprattutto un po' di pietà ciao